trx original siae questa questa creatura sconosciuta e mitologica che cosa fa siae siae prima di tutto si occupa di che cosa dell'intermediazione del diritto d'autore questo che cosa vuol dire che siae per conto diciamo dei suoi soggetti dei soggetti che le danno mandato è come esattamente funziona nel campo immobiliare io devo vendere casa mia non ho il tempo di capire quanto vale casa mia non ho il tempo di farla vedere a cento dieci o cinquanta persone e quindi decido di dare mandato si dice a un'agenzia immobiliare che cosa fa di mestiere e cerca di vendere casa mia ecco il diritto d'autore funziona nello stesso modo è una proprietà in qualche modo è un diritto che ha che nasce in capo all'autore quindi che nasce nel momento in cui io scrivo un pezzo e questo autore decide magari insieme al suo editore a chi ha composto il brano di affidare quindi è come vendere casa affidare la vendita del suo brano a un terzo che può essere siae o un altro soggetto che fa di mestiere quello che si chiama collective management organization sono dei soggetti che sono strutturati per diciamo sfruttare le economie di scala di farlo insieme e questo ci arriviamo perché qual è in realtà nel caso base io se sono un artista posso andare tranquillamente a vendere il mio diritto d'autore da solo non avrei bisogno di siae il momento nel quale io avente diritto quindi artista autore ho bisogno di un terzo è quando i miei brani vengono usati da moltissime persone faccio un esempio artisti molto importanti faccio un nome può essere vasco rossi vengono utilizzati ogni anno da 50 70 80 mila persone diverse cioè 50 80 mila musicisti singoli utilizzano almeno un brano di vasco rossi quindi chiaramente un conto è dire io ad affare un tour di concerti suono la mia musica soltanto in quel tour nel quale io sono fisicamente il diritto d'autore posso anche incassarlo da solo cosa ben diversa è andarlo a chiedere a 50 80 mila persone da solo è impossibile creare una struttura per quanto io possa essere una persona facoltosa tipo il nome di vasco che abbiamo detto è difficile perché andare a chiedere a 50 80 mila italiani in particolare un po più complicato rispetto ad altri paesi nel mondo andargli a chiedere dei soldi per fargli utilizzare i miei brani è chiaramente molto complicato quindi ecco una cosa già appunto tu dicevi vendere casa ovviamente qui non stiamo parlando di vendere il proprio brano ma vendere il diritto d'autore questo forse merita una mini parentesi un attimo no rimanendo nell'esempio immobiliare che forse molti conoscono è come il concetto dell'affitto io non ti sto vendendo casa io ti sto dando la possibilità di entrare dentro quella casa per un mese un anno ecco il diritto d'autore è esattamente questo io ti do la possibilità in quella tale discoteca dalle ore 21 magari comincia molto presto alle ore 5 perché decidiamo di chiudere senza fare poi after ti permetto di utilizzare il mio o i miei brani questo è quello che diciamo l'autore può fare e lo fa fare a un terzo nel momento in cui i suoi brani sono così diffusi che è molto difficile seguirli lasciatemelo dire tra virgolette ecco ti chiedo scusa una cosa a questo punto visto l'esplosione noi siamo su su trx radio è una radio di settore specializzata sul rap questi ultimi anni il rap ha avuto un boom eccezionale no con dei numeri assolutamente insperati che tra l'altro la musica rap si genera praticamente da cameretta è un po' come funzionava prima l'elettronica e il rap ancora di più se possibile ha coinvolto migliaia di ragazzi italiani questa possibilità di creare dei brani da casa e pubblicarli in qualche modo in streaming su youtube su per diciamo l'entry level e poi addirittura con degli aggregatori su spotify eccetera danno la possibilità di farsi conoscere anche a ragazzi sconosciuti ecco questa mole di brani che sono stati creati negli ultimi anni come viene gestita da sia e soprattutto secondo te su su cento ragazzi e ragazze che provano a fare rap quanti poi approdano al a sia e devo dirti paola che non lo so in realtà perché noi vediamo soltanto quelli che approdano quindi non conosciamo diciamo la realtà che c'è dietro che sono tutti quelli che non decidono di farsi diciamo intermediari da un soggetto come sia e è chiaro che mi viene da dire probabilmente la stragrande maggioranza di quelli che a un certo punto hanno quel minimo di successo che permette ai loro brani di essere diffusi in giro probabilmente si fanno la domanda è meglio o no utilizzare un soggetto come sia e secondo me la mia personal opinione è che forse c'è più gente che cerca di utilizzare i servizi sia e senza che sia effettivamente necessario rispetto al contrario cioè nel senso molta gente a volte si iscrive a sia e e dice magari non sarà il tuo caso non sarà il caso di tutti gli ascoltatori ma ci fa la domanda dice ma perché non ho percepito niente ho depositato 100 brani mi doveva arrivare qualcosa in realtà sia e non è che fa un piazzamento dei brani sia e va a cercare di raccogliere in giro quelle che sono le utilizzazioni dei brani che sta gestendo quindi se il brano non è utilizzato da nessuno perché banalmente io l'ho depositato solo in sia e ma non l'ho mai dato a nessun altro a un dj che lo vuole mettere in discoteca in una serata è chiaro che l'intermediazione di sia e probabilmente sarà zero quindi non fa la pena depositare qualsiasi opera che venga composta bisogna fare un doppio lavoro dipende in realtà depositare qualsiasi opera direi sempre di sì se si è iscritti la domanda vera da farsi è ma mi conviene o no iscrivermi a un soggetto come sia e perché il problema qual è se i miei brani non sono diffusi perché l'altra cosa diciamo importante che garantisce un soggetto tipo sia è la tutela è un po l'effetto ufficio brevetti in qualche modo io sono garante che quel giorno a quelle in quella a quell'ora tu mi hai dato quel brano e quindi se il giorno dopo qualcuno tira fuori quel brano e dice che è suo io posso dire no guarda mario rossi me l'ha dato a me il giorno prima quindi per questo può essere utile però il tema qual è se i tuoi brani non vengono utilizzati né da te né da tersi in giro la diffusione del brano non esiste quindi basta che te lo tieni in un cassetto e nessun altro conosce quel brano e non è non hai possibilità che venga diciamo copiato quindi quello che sto dicendo in realtà è controproducente per siae ma è importante per una persona che è alle prime armi non è necessario iscriversi specialmente se io non ho bisogno dei servizi che siae mi sta offrendo scusami entrando nello specifico effettivamente nel io ho avuto il mio primo impatto con siae intorno al 2010 diciamo così ho iniziato a fare questo lavoro nel 2005 2006 e il primo impatto che ho avuto è stato del 2010 tu di che anno sei entrato in siae a fine 2014 quindi un po dopo che siae hai trovato quando sei entrato già che lo chiami impatto fa capire è come un muro che si arriva in fronte è stato un po un impatto sì ma sai che siae comunque una realtà che ha una storia lunghissima dietro di sé perché comunque è stata fondata nel 1882 quindi puoi immaginare che qualsiasi cambiamento devi fare a qualcosa che ha una storia del genere dietro non è soltanto complicato all'interno dell'organizzazione che può essere siae stessa ma è complicato anche nei rapporti con tutti i soggetti che hanno a che fare con siae magari da 50 60 anni noi abbiamo tanti associati che sono diciamo dei veterani associati da 50 60 anni quindi fare anche una piccola modifica a qualcuno che è abituato da 50 anni a fare quella cosa sempre così sembra banale ma non lo è assolutamente anche se devo dire che appunto proprio in quegli anni di cui stiamo parlando noi c'è stata una rivoluzione che ha travolto tutti sia gli associati da 50 anni che i nuovi perché con l'avvento pesante dello streaming poi nel 2012 2013 l'avvento di apple music spotify eccetera stravolto tutto come hai vissuto questo sì perché appunto 2014 come hai vissuto questa enorme trasformazione che forse così radicale non c'è mai stata prima no ti direi che probabilmente c'è stata un'accelerazione e forse ci sarà un'accelerazione sempre di più ti spiego perché sicuramente il l'avvento dell'era internet è stato un cambiamento epocale per il mondo musicale perché sicuramente c'erano dei canali alla fine delle source of royalties potremmo chiamare cioè da dove arrivano i soldi che più o meno erano consolidate da almeno 30 anni 40 anni dal momento in cui c'è stato ci sono state radio e tv da lì non è che c'erano stati grandi altri cambiamenti prima del diciamo dell'era internet è chiaro che dire internet e basta è dire poco perché non è che hai soltanto un nuovo canale che ti porta diciamo soldi da dover gestire come sia e da dover distribuire ai tuoi associati ma diciamo gli ultimi vent'anni soprattutto per forse gli ultimi dieci e i prossimi dieci bisognerà vedere cosa succederà stanno portando un cambiamento epocale soprattutto in termini di processi operativi cioè le aziende stanno cambiando non è soltanto da dove ti arrivano i soldi che sta che sta cambiando ma sta cambiando proprio qualsiasi cosa cioè anche se hai che adesso si tra virgolette digitalizza forse magari in ritardo quello che possiamo pensare ma perché lo devi fare ma perché i tuoi associati se lo aspettano cioè io oggi quando ho un servizio che considero usufruisco di un servizio che posso considerare buono sono un correntista fineco utilizzo amazon do per scontato che non solo che il sito web ci sia e funzioni bene ma dopo e scontato anche che debba esserci un'app che sia molto semplice che sia molto versatile e posso fare un bonifico da dal ristorante diciamo che non è una cosa di oggi ma da dieci anni almeno lo potevi fare e quindi ecco hai nominato la app scusa a che punto a che punto sei a che punto siete a che punto siamo con questa app di si è che cosa permette di fare ma guarda il l'app in realtà è newborn è nata da poco ce n'era un'altra prima però la considero del dell'era si è 1.0 l'abbiamo fatta sparire dagli store un anno e mezzo fa e non se ne è accorto nessuno era diciamo un esperimento la vecchia app quella nuova abbiamo dedicato a quella nuova molto più tempo soprattutto in fase di progettazione per capire che cosa dovesse fare che cosa ci si aspettava da un'app di sia e diciamo una prima versione pronta per il pubblico è stata rilasciata durante sanremo quest'anno l'app si chiama sia e plus in realtà non vuole essere una copia di quello che è già disponibile sul sul sito web di sia e che poi per chi lo utilizza aveva avuto anche n problematiche nella sua nascita e nella sua diciamo crescita l'app vuole essere qualcosa comunque di diverso non deve essere una copia perché le copie l'app copiata ma questo vale per qualsiasi tipo di business l'app copiata dal da un sito è un errore quindi anche un gioco un gioco per la per un app gioco deve essere diversa da un da un videogame per playstation 4 oppure per pc perché perché tendenzialmente gli dedico magari dei segmenti di tempo molto più stretti sono a fare la fila al supermercato in questo momento direi che è molto d'attualità o cinque minuti dieci minuti beh in questo momento forse hai anche un paio d'ore però dipende un po da dove vai a fare la fila o dieci minuti voglio fare qualcosa ecco l'app deve essere pensata per questo prima di tutto diciamo filtrare tutto quello che erano tra virgolette fronzoli o comunque che non era assolutamente necessario dire ma nel 90 per cento dei casi i nostri associati che cosa vengono a fare sul sito di siae ecco prendere quel 90 per cento e trasferirlo molto più semplificato su un'app era il nostro obiettivo quindi chiaramente che cosa di che cosa hai bisogno più o meno puoi guardare i soldi che sia ti porta in maniera chiaramente più semplificata rispetto al sito che però di impatto ti danno subito un'impressione di più o di meno voglio cambiare le mie informazioni anagrafiche questo dobbiamo farlo perché se no diciamo era brutto fare l'app senza farlo l'altra cosa diciamo lasciami dire killer application nel nostro piccolo è stato il deposito online cioè pensare di fare un deposito a questo punto one stop shop direttamente one stop shop vuol dire entro sull'app e posso fare il deposito perché mi arriva una one time password per chi ha poi ios quindi un iphone arriva un codice direttamente sull'sms che l'iphone riconosce essere un codice e te lo propone direttamente quando lo metti per per firmare il deposito è chiaro che questo diventa una semplificazione enorme soprattutto io sono entrato in siaia a fine 2014 2015 se lo siamo fatto tutto così il deposito si poteva fare soltanto cartaceo e questo è un aneddoto simpatico quando ho chiesto perché si chiamasse modello 112 nessuno sapeva dare una risposta quindi questo è il tema cioè tu devi cambiare qualcosa cioè puccini agli inizi del novecento depositava su un pezzo di carta che si chiamava 112 e non abbiamo capito perché si chiamasse ancora oggi 112 100 anni dopo da quello sei passato a fare un'app che a un certo punto ti permetterà di firmare direttamente con face id o touch id quindi è una rivoluzione copernicana per quello che è diciamo il nostro mondo il nostro piccolo esatto è romantico chiamarlo modello puccini allora invece di non ci avevo mai pensato devo dire che è carino potremmo chiamarlo modello è chiaro che anche lì sarà difficile probabilmente abbandonare il modello puccini perché noi abbiamo tanti associati che alcuni molto importanti non hanno nemmeno il telefono cellulare quindi è complicato spiegargli che cosa è una one line password hai una percentuale indicativa che giusto ma guarda sicuramente una percentuale interessante che da tenere in considerazione è noi abbiamo circa 20.000 associati che non si sono mai iscritti al portale cioè non hanno mai ritenuto necessario su 96.000 quindi fai conto sei un 20% scarso no è chiaro che è una percentuale non banale anzi è più del 20 sarà 21 22 e ma sai quando una persona c'ha 80 anni noi abbiamo associati di 80 90 anni ci sono quelli che magari sono interessatissimi al mondo io lo dico perché mio nonno all'età la veneranda età di 94 anni si è comprato un ipad questo accadeva 7 8 anni fa poi ci ha lasciato mi è dispiaciuto molto però una persona che ha 94 anni si prende un ipad e cerca di capire come funziona e mi chiede come si prendono le icone e cioè è l'eccezione che conferma la regola gli altri mediamente diciamo se ne andranno con la carta quindi non lo puoi togliere l'altra cosa invece ad esempio la cosa che il prossimo tra l'altro sviluppo importante dell'app che stiamo portando avanti sarà un'iscrizione completamente digitalizzata sull'app quindi non è più bisogno e meno necessario mandare un pezzo di carta ad esempio come fanno le banche anche online perché ci sono delle nuove modalità io mi farò mi faccio un video nel quale dico voglio iscrivermi a sia e questo per noi potrà essere sufficiente quindi vorrà dire che tu scarichi l'app e all'interno dell'app in un quarto d'ora che devi mettere più o meno tutti quanti i tuoi dati puoi essere iscritto chiaramente questo che cosa vorrà dire a un certo punto diciamo la mia grande speranza è quantomeno per tutto il mondo dell'iscrizione decidere di farla soltanto in maniera digitale perché mentre il deposito è diverso io ho gente iscritta 50 anni fa che fa nuovi depositi perché comunque la creatività non muore mai il nuovo iscritto tendenzialmente è una persona giovane o comunque se non è una persona giovane è una persona alla quale posso richiedere di fare un'iscrizione che è full digital perché non ha mai interagito con me non sapeva nemmeno che esisteva il modello Puccini a un certo punto anche noi dobbiamo cambiare un po' come è stato con il bordero digitale per chi lo conosce voglio aprire la parentesi perché adesso in questo momento veramente tragico per quanto riguarda la musica live perché ancora dopo diverse settimane adesso sono quasi un paio di mesi ancora non si hanno date certe e sarà senz'altro gli eventi saranno senz'altro l'ultima cosa a venire sistemata ad essere possibile probabilmente tra l'altro solo quando ci sarà un vaccino probabilmente ecco allora visto che non ci sono date di nessun tipo riguardo agli eventi che visione hai tu del degli introiti per gli iscritti quindi per tutti gli autori e compositori che prendono una grande parte dei loro proventi da questa da queste attività volendo essere franchi non buona perché diciamo come tutti possono vedere in giro in questo momento diciamo per tutto il mondo dell'intrattenimento che gira sulla pubblica esecuzione che è questo diciamo queste fatti specie delle quali stiamo parlando che possono essere discoteche piani bar concerti piccoli concerti è chiaro che in questo momento il fatturato di questo ma in generale quindi non soltanto la parte di diritto d'autore il fatturato di questa parte del business dell'intrattenimento è zero quindi se in questo momento è zero il fatturato evidentemente anche la componente diritto d'autore che viene usata e che quindi viene remunerata è zero quindi il problema è prima di tutto per quanto tempo come dicevi giustamente te probabilmente alcune di queste fatti specie saranno tra le ultime ad essere riaperte ma questo perché chiaramente sono per definizione assembramenti di persone quindi quando parliamo di una discoteca con dentro mille persone in una discoteca anche riaprirle dire che c'è una distanza minima di un metro tra le persone è evidentemente un poco senso o un non senso quindi il vero problema in tutto questo è prima di tutto quando potrà ripartire tutto quanto perché chiaramente se magari timidamente durante l'estate o appena dopo l'estate dovesse ripartire tutto è un conto se cominciamo a proiettarci nel 2021 chiudendo quindi un 2020 nel quale sostanzialmente da marzo in poi c'è stato zero attività è chiaro che è uno scenario molto più complicato per non dire questo scenario sì apocalittico per il nostro settore metterà nudo a questo punto che cosa vale digitale veramente no se tu levi da questo tutto quella parte così importante dei dei proventi dati da concerti discoteche club e quant'altro rimarrà la parte digitale quindi sarà importante vedere che cosa resta nel setaccio giusto assolutamente sì diciamo che qui a prima di tutto secondo me il mondo rap è più tra virgolette fortunato in questa fase perché sicuramente nel trend degli ultimi due tre anni è un comparto che è stato sempre molto più forte rispetto alla media con tutto il mondo digitale cioè se il mondo digitale per un associato medio musica sia e vale circa il 5 per cento tra il 5 e il 10 diciamo può valere nel mondo rap ci sono picchi tranquillamente anche del 20 per cento 25 per cento per qualcuno quindi vuol dire che cosa per queste persone che hanno picchi col digitale molto alti ci sarà diciamo un effetto cuscinetto molto più alto rispetto ad altri segmenti di mercato immaginate tutto il mondo anche dei piani bar le classiche canzoni che in italia sono da cantare tutti insieme di fianco a un pianoforte quel comparto lì ad esempio è molto più in difficoltà perché perché sul digitale è molto molto meno forte quindi su questo devo dire per il rap è una buona notizia perché quantomeno è un cuscinetto che resiste se non migliora l'unica cosa è abbiamo visto dei segnali negativi perché uno avrebbe detto stanno tutti a casa in realtà la gente ascolta molto di più la musica in streaming forse ne avrà parlato anche Enzo Mazza ma in realtà c'è stata una levissima contrazione probabilmente questo poi saranno studi diciamo sociologici che arriveranno nei prossimi anni legati probabilmente al tutto il mondo del commuting cioè le persone non vanno più in ufficio e non tornano dall'ufficio quindi non passano magari specialmente a Roma un'ora due ore del loro tempo al giorno in macchina e quel tempo loro lo dedicano in meno alla musica sicuramente sicuramente c'è stata un'esplosione di servizi digitali tipo Netflix o similari però è chiaro che per questi qua non bisogna farsi strane illusioni perché in realtà ad esempio il mondo rap ma vale per tutta la musica chiamiamola local italiana la nostra presenza all'interno di questi programmi è bassa perché è vero che sono cresciuti i fatturati però la colonna sonora della casa di carta era made in Spain l'anno scorso sarà made in Spain anche quest'anno quindi su questo bisogna stare attenti anche a vedere quali segmenti possono essere utili per noi diciamo parlo del mondo rap e quali no sicuramente tutto il mondo streaming importantissimo però parlando di musica quando parliamo di audiovisivo chiaramente la presenza è bassissima ma questo vale in generale anche per tanti altri comparti anche se appunto i numeri del digitale dello streaming appunto verranno esposti da semplicemente dalla mancanza della parte live performance sono comunque piuttosto bassi tu parlavi di casa di carta che è forse la serie più vista al mondo mi pare di aver visto una notizia del genere c'è un brano italiano però l'altro si stanno ho visto anche la pubblicità che si basa proprio in Italia la fanno ovviamente su quel brano lì però da lì a riuscire a colmare questo gap che si creerà tra quello che era prima e quello che sarà dopo senza gli eventi io non lo so bisognerà anche rivedere un attimo tutta questa musica che gira in streaming capire se riesce a effettivamente a rendere di più agli artisti il problema è che sono modalità di fruizione completamente differenti cioè ad esempio quando c'è una persona che invece di fare un concerto live decide di fare un live su facebook il vero problema qual è? le persone quando vai live su facebook non è che ti pagano un biglietto da 10, 20, 30, 50, 80 euro esattamente è chiaro che cambia completamente il modello di business diventa un modello tipo facebook, tipo youtube che nella stragrande maggioranza dei modelli similari è basato sull'advertising quindi sulla pubblicità però sono modelli che chiaramente portano molti meno soldi rispetto a un modello nel quale io incasso dal singolo pagante anche un numero che può essere double digit in euro quindi 10 euro ma 10 euro basta che ci pensate se 10 euro in un palazzetto di 5.000 persone entrano 5.000 persone e pagano 10 euro ho un introito di 50.000 euro se io ho 50.000 persone collegate in una diretta su instagram o su facebook si magari facebook riesce a piazzarci sopra della pubblicità ma quella pubblicità quanto la possono pagare? 100 euro, 500 euro è comunque un paio di ordini di grandezza meno dei 50.000 quindi sono dei palliativi ma non saranno mai un sostituto di quello che può essere il mondo della public performance ma immaginate ad esempio tutti i concerti quelli i mega concerti negli stadi è chiaro che quello è un irreplicabile ma anche su quella parte lì bisogna fare sicuramente economia nei prossimi 12-18 mesi perché sicuramente ci si deve aspettare una contrazione anche se appunto sento parlare ho visto Tiziano Ferro è andato da Fazio e appunto ha espresso preoccupazione per tutta questa parte che appunto non ha una data, non vengono annullati, non vengono neanche più spostati a questo punto perché è inutile spostare delle date se non si ha la certezza che poi si riusciranno a fare è vero che ho capito che è venuta fuori anche una mini polemica dicendo che queste cose, quasi che queste cose fossero superflue in realtà certo non sono beni di prima necessità ma non sono nemmeno superflue e non capisco come mai ancora oggi nel 2020 non si riconosca alla musica e ai concerti un valore culturale in realtà il valore culturale ce l'hanno, queste cose anche diciamo adesso c'è stato un decreto in particolare voluto dal ministro Franceschini che punta ad aiutare sicuramente tutto il settore della creatività e la musica c'è assolutamente dentro il problema è quello che dicevamo prima è che un settore, quello dell'intrattenimento live che rappresenta da questo punto di vista in questa particolare fattispecie con questo problema del covid presenta degli aspetti di rischiosità che molti altri comparti non hanno e questo lo tra virgolette indebolisce ma immaginiamo che è più o meno la stessa sorte che stanno subendo e che probabilmente subiranno tutte le persone che lavorano nel settore del turismo cioè anche lì il giorno che riapriamo l'Italia ma che chiediamo a tutti gli altri paesi che magari hanno ancora questa emergenza perché noi siamo partiti prima degli altri in Europa sicuramente ma nel mondo occidentale quando chiederemo a un americano di uno statunitense di farsi 15 giorni di quarantena per entrare in Italia ma lui non viene più in vacanza in Italia a parte che probabilmente penserà ad altro perché anche lì avranno altri problemi a cui pensare però siamo sfortunatamente uno di quei settori che più risente e più risentirà nei prossimi mesi di tutto questo specialmente specialmente tutto il mondo delle persone che gravitavano proprio intorno alla pubblica esecuzione perché io se mi viene da pensare chiaramente chi faceva musica da film in questo momento ne risente così tanto e ne risentirà nel prossimo futuro probabilmente no è stato più tra virgolette fortunato perché il suo comparto se diciamo non era specifico della musica delle colonne sonore proprio di quelle che vanno nei cinema però in realtà la parte di televisiva la parte comunque del mondo film, telefilm continua ad andare più o meno come prima chiaramente tutto il mondo basato su advertising anche lì ci potrà essere un po' di contrazione perché anche tutte le grandi società che facevano investimenti pubblicitari chiaramente non hanno più tutti questi soldi da investire oppure banalmente perché può scendere un po' la pubblicità anche sul mondo del broadcasting cioè sui canali tv che conosciamo il tv generalista banalmente perché il mondo dell'auto non investe più le macchine tanto non vengono comprate oggi non verranno comprate nei prossimi tre cinque mesi perché io devo investire solo per fare pubblicità se avete visto probabilmente sarà sparito il 70-80% della pubblicità di automobili perché tutta questa parte qui non verrà sostituita dal digitale in questo momento smart working tante cose vengono sostituite vengono implementate finalmente effettivamente l'unica cosa positiva forse è svecchiare appunto alcuni comparti che necessitavano di un ammodernamento perché tante cose che facevamo erano o superflue veramente o ancora di più inutili ecco alcune cose sicuramente faranno del bene anche al nostro settore tu sei un supporter sfegatato della blockchain per esempio no? e come potrebbe influire a parte vabbè forse ecco tu che sei mega esperto se vuoi fare un cenno spiegare brevemente che cos'è e come potrebbe migliorare il lavoro di SIAE ma a parte mi riallaccio a quello che dicevi prima in realtà secondo me anche tutto il mondo dello smart working lavoro agile poi diciamo ci sono varie definizioni secondo me uno dei pochi aspetti positivi di tutto questo dramma che stiamo vivendo sarà il fatto di averci proiettato in un mondo nel quale forse soprattutto come Sistema Italia verso il quale saremmo andati con molta riluttanza e con molta difficoltà secondo me in questo momento molte aziende e devo dire anche SIAE in questo momento sta funzionando in maniera smart quantomeno sta funzionando come prima poi magari ci sono persone che non sono d'accordo su come sta funzionando anche due mesi fa però sta funzionando come prima e devo dire che questo sarà invece un banco di prova sarà stato un banco di prova molto interessante per capire che effettivamente si può portare più efficienza nel sistema produttivo Italia in generale adottando questo tipo di nuove nuove tra virgolette perché già esistevano ma modalità parlando invece di blockchain allora se volete capire che come funziona blockchain ci sono dei tutorial su youtube che in 3-5 minuti ve lo spiegano sicuramente molto meglio lo metteremo in descrizione volentieri ve lo giro perché veramente sono carini io devo dire che me li guardo perché aver capito sapere spiegare in poche parole qualcosa vuol dire essere veramente esperti di quella cosa personalmente non mi considero un vero esperto perché magari uno si legge qualche libro a blockchain in realtà oramai basta che uno si legga un articolo e sembra un grande genio in realtà per essere esperti di blockchain bisogna sapere di criptografia bisogna diciamo avere delle hard skill che in pochissimi anche quelli che si definiscono esperti di blockchain hanno quindi io vi consiglio di guardare quello perché effettivamente lo racconta meglio di come lo potrei raccontare mai io quello che vi posso dire di blockchain in realtà che la rende una cosa interessantissima al netto degli aspetti tecnici che non interessano sicuramente a nessuno degli ascoltatori che però se vogliono andarsi a informare lì possono guardarlo in realtà blockchain per la prima volta introduce parliamo a livello concettuale che cosa rappresenta quindi non è tanto come funziona la catena di blocchi lashing non vi interessa cosa rappresenta per il mondo nella nostra economia quotidiana nel mondo dell'intermediazione ad esempio blockchain rappresenta diciamo un primo passo nella storia dell'uomo per la prima volta nella storia dell'uomo ci possono essere transazioni a valore tra individui sul web questo che cosa vuol dire noi oggi uno dice io faccio un bonifico a Paola in realtà io sto trasmettendo delle informazioni dalla mia app al server della mia banca che trasferisce dei soldi magari alla tua banca che trasferisce quindi l'informazione alla tua app dicendo cara Paola Matteo ti ha fatto un bonifico quindi in realtà io non ti sto trasferendo dei soldi io sto trasferendo informazione che poi a un certo punto diventa un trasferimento di denaro perché questo è chiave e importantissimo siamo un mondo basato sulla sfiducia quindi tutti quanti non si fidano del prossimo e quindi storicamente non si riesce a fare questa transazione tra due soggetti perché riuscivamo a trasferire soltanto informazioni ok blockchain per la prima volta nella storia dell'uomo ti permette di trasferire del valore tra un soggetto e un altro che si possono fidare l'uno dell'altro quindi chiaramente qual è stata la prima implementazione una persona geniale che ha avuto un'idea del genere dice qual è la prima transazione a valore che posso fare tra due soggetti banalmente i soldi quindi le prime la prima iterazione di questo nuovo universo nel quale io trasferisco valore è stato tutto il mondo delle criptovalute partendo da bitcoin ce ne sono oggi quante ne volete però in realtà questo questo universo è molto più ampio interessante di quello che non può essere qualcuno che specula sulle criptovalute se andate a giocare alla SNAI molto spesso quindi sulle partite di calcio poi ho fatto un esempio ce ne sono sicuramente tanti altri diciamo come SNAI non volevo fare pubblicità non è la speculazione perché poi appunto per avere fiducia occorre una garanzia qual è la garanzia la garanzia è un aspetto tecnico per questo vi dico se volete ma non vi interessa andatevi a guardare i video che vi spiegano come funziona ma la garanzia è un aspetto tecnico quindi oggi tu sai come funziona il protocollo di sicurezza che permette alla tua banca di farti mandare delle informazioni a loro senza che vengano rubate da qualcun altro no probabilmente sta in fondo alla pagina c'è scritto il nome della cifratura che usano ma all'utente non gli interessa assolutamente quindi in realtà il vero passo in avanti dell'adozione potenziale di queste tecnologie sarà il cercare di renderle semplici da utilizzare per l'utente che non si accorge nemmeno che c'è tutto questo dietro ad esempio perché è interessante ad esempio il caso di SIAE o parliamo dell'intermediazione in generale dei contenuti ma l'intermediazione di tutto perché storicamente noi siamo stati abituati ad un'era internet 1.0 nella quale era necessario avere un intermediario che facesse da garante o comunque che facesse da diciamo gestore delle informazioni ma quando parlo di intermediazione dovete immaginare non SIAE ma ad esempio Spotify è un intermediario perché io a Spotify mando dei contenuti lui li mette a disposizione e vengono usati da terzi ma in realtà io potrei io non sono mai messo in connessione io che produco un brano un pezzo da un punto di vista creativo oppure lo produco fisicamente io in realtà sto vendendo questo pezzo ad una persona che lo vuole ascoltare e anche questa è un'intermediazione volendo generalizzare ancora di più potete immaginare anche booking.com è un intermediario quanti hotel quanti hotel ci sono che mi offrono alla fine io devo comprare una stanza da un albergo non voglio comprarla da booking allo stesso modo funziona Airbnb Uber funziona nello stesso modo se vogliamo generalizzare ancora più in maniera allargata Google e Facebook sono degli intermediari che magari intermediano informazioni tra soggetti li mettono in connessione ecco quello che potrebbe portare il mondo che chiamiamo blockchain diciamo è una parola molto abusata però quello che ci potrebbe portare è una rivoluzione nel modo in cui noi concepiamo tutti questi soggetti che fanno l'intermediario di mestiere potrebbe da una parte semplificare e dall'altra parte potrebbe eliminare anche dei passaggi che oggi diciamo lasciano dei soldi qua e là immaginate anche l'esempio di SIAE SIAE morirà con il mondo blockchain in realtà un pezzo del mestiere che fa SIAE forse potrebbe essere fatto meglio e più a valore aggiunto da un'infrastruttura basata su blockchain quindi oggi SIAE come SIAE noi stiamo investendo su blockchain uno potrebbe dire cavolo ma perché tu SIAE sei pazzo completo che investi su qualcosa che ti disintegra in realtà bisogna ragionare ancora più avanti qual è la mission di SIAE il nostro obiettivo qual è io sono posseduto dai miei associati quindi l'azionista di SIAE è quello che al quale gioverebbe un miglioramento un efficientamento del sistema quindi se io come SIAE posso puntare a un sistema più efficiente devo farlo per i miei azionisti che sono quelli per i quali faccio intermediazione quindi è diverso dall'intermediario ad esempio l'immobiliare perché l'immobiliare lui ci vuole fare dei soldi sull'intermediazione della mia casa noi siamo un po' più come la cooperativa dei taxi quindi io Matteo Fedeli sono la signorina che risponde al telefono per trovare corsi ai tassisti che però mi possiedono quindi se a un certo punto chiaramente la signorina che risponde al telefono non sarà contenta che l'intelligenza artificiale le ruba il mestiere però la cooperativa dei taxi in sé a un certo punto dice beh io ho 200 centrali miste le potrei ridurre a 20 con l'intelligenza artificiale posso farlo? cavolo devo farlo perché la mia mission è fa spendere il meno fa spendere il meno dobbiamo far spendere il meno possibile ai nostri azionisti e fargli arrivare il valore più alto possibile da questa intermediazione quindi questo deve essere un po' e è un mondo interessantissimo tra l'altro sul quale abbiamo avuto anche qualche piccola soddisfazione come sia perché abbiamo presentato un progetto al ministero dello sviluppo economico a fine dell'anno scorso e quest'anno ci hanno dato dei soldi ci hanno dato 500.000 euro per questo progetto su diciamo del portare il mondo dell'intermediazione del diritto d'autore delle reti 5G su un'infrastruttura blockchain perché si vede che le abbiamo convinti di quanto può essere interessante tutto questo che stiamo dicendo non è una cosa che succederà domani mattina io vedo tutti i giorni start up che partono e dicono abbiamo rivoluzionato il mondo della musica da domani mattina cambierà tutto secondo me non è una cosa da domani mattina specialmente in epoca covid non è così semplice però che in 5-10 anni ci saranno dei cambiamenti importantissimi molto più grandi di quelli che non abbiamo visto ad esempio con l'introduzione della musica digitale per quanto riguarda il mondo degli intermediari sicuramente sarà così guarda come si è sceso il Matteo Fedeli sulla blockchain beh è interessantissimo guarda si vede che sei appassionato di questa cosa ma tra l'altro appunto tornando al discorso di prima del fatto sei entrata nel 2014 quando questa rivoluzione digitale streaming che tu dici addirittura non essere neanche paragonabile a quello che potrebbe succedere nei prossimi 5-10 anni beh comunque ha veramente rivoluzionato tutto in CI quanto pensi si è parlato moltissimo sui giornali quindi è arrivato molto anche alle persone là fuori questo momento di concorrenza con Soundriff che è questa società che ha che sta cercando di fare concorrenza a CI quanto ha influito secondo te l'esistenza la crescita di Soundriff rispetto al cambiamento epocale dentro a CI ma guarda dire che non ha influito è sbagliato perché sicuramente tutto quello che succede nel contesto esterno poi alla fine delle influenze nel come si comportano le aziende anche se è un'azienda alla fine tutto in qualche modo contribuisce quello che posso dare come mia esperienza personale è io sono stato assunto da CI alla fine per portare un cambiamento che facesse leva anche sulla digitalizzazione e devo dire che quando io sono stato assunto non è ma nei successivi 6-12 mesi praticamente non era stata mai menzionata Soundriff quindi in realtà CI stava percorrendo una sua strada che era stata voluta dai suoi azionisti nel senso ritornando all'esempio precedente i tassisti a un certo punto avevano detto ragazzi ma questo centralino non può funzionare così è un centralino anni 80 ma lo dovete un po' migliorare non dico un'intelligenza artificiale google like ma lo voglio un po' meglio voglio un'app voglio un sito voglio un bordero digitale tutte queste cose loro le hanno dette a prescindere dal fatto che ci fosse uno o altri soggetti che facevano lo stesso mestiere però è stato un bel boost sicuramente sicuramente ha contribuito quindi ad esempio adesso noi abbiamo rilasciato un'app ma non perché fosse una risposta Soundriff che aveva rilasciato un'app Soundriff l'app non ce l'ha ma semplicemente perché i nostri associati se la aspettano cioè il fatto che il mercato si aspetti qualcosa noi glielo dobbiamo al mercato specialmente se il mercato è rappresentato dai nostri azionisti quindi per definizione noi dobbiamo e dobbiamo continuare a superarci su questo ad esempio anche tutto il tema blockchain perché lo stiamo facendo perché dobbiamo farlo lo dobbiamo a quello che ci paga lo stipendio guarda questo è interessante una cosa importantissima che nel tempo secondo me si era persa dentro SIAE dal 1882 quando è stata fondata ad oggi è quando mi fanno delle domande dei nostri associati io rispondo guarda che quando mi dicono grazie alla fine che gli ho risposto magari io dico grazie di che mi paghi lo stipendio più di quello che cioè io vivo perché voi mi permettete di vivere attraverso il vostro lavoro quindi questa poi è la chiave di tutto non è un dettaglio perché noi viviamo per questo quindi dobbiamo farlo nel modo migliore che possiamo ecco che interazione c'è con come riesci come riescono le persone ecco per me l'impatto che ho avuto ti dico era l'impermeabilità di SIAE nel 2012 era veramente impossibile era un po' come l'Inps ora del loro 600 euro il PIN è una caccia al tesoro ti mandano il PIN diventa poi quasi divertente se hai tempo da perdere e all'epoca era un po' così adesso come entrano in contatto gli associati con SIAE e anche spiegami questa cosa come che tipo di investimento pensate di fare per rendere tutto più facile e non più burocratizzato e statalizzato come era una volta ma guarda prima di tutto anche quali sono state i driver cioè quali sono state le in base a cosa abbiamo deciso su cosa puntare almeno sicuramente da quando io sono in SIAE banalmente bastava guardarsi intorno alla nostra serie di via di letteratura uno guardava le pile di carta che avevamo quando c'erano delle pile che erano nelle dimensioni di pallet quindi stanze piene di carta quella è una cosa forse da digitalizzare e questi erano sicuramente i borderaux tutto il mondo dei depositi quindi quella parte diciamo tra virgolette è stata più semplice perché quando io vedevo una tonnellata di carta per fare qualcosa vuol dire che qualcosa dovevamo fare ma anche che ne so l'utilizzo e l'abuso del fax oppure che mi facevo mandare delle cose scansionate che tanto non valgono niente nemmeno come firme è chiaro che tutto questo se riesco a digitalizzarlo ho semplificato enormemente l'esperienza dell'utente quindi se oggi e oggi secondo me è così almeno il 95% di quello che i nostri associati hanno la possibilità di fare attraverso SIAE lo possono fare in maniera digitale quindi parlando del numero di interazioni se io questa percentuale riesco a portarla al 99% sicuramente ho semplificato la vita al mio associato quello che adesso anche attraverso l'app SIAE Plus stiamo cercando di portare avanti come diciamo piano 2.0 a questa cosa è cercare di semplificare tutto questo perché ad esempio a Starrepo abbiamo lanciato l'app SIAE Plus che ha paradossalmente un po' meno informazione ad esempio sui soldi che io guadagno attraverso SIAE da dove arrivano rispetto al sito però ci sono moltissime persone che mi hanno scritto nostri associati anche importanti dicendo incredibile finalmente vediamo tutte queste informazioni a me sarebbe venuto guarda che in realtà sono almeno due anni che ce n'hai anche di più il vero tema quindi qual è non basta essere trasparenti non basta essere digitali ma bisogna soprattutto essere semplici cioè quello che si aspettano le persone ma anche se non se lo aspettano lo dobbiamo fare perché se no non se ne rendevano nemmeno conto è cercare di semplificare questa interazione riducendo il numero di informazioni che gli mettiamo a disposizione a quelle che effettivamente gli servono questo è un grande tema effettivamente che vale veramente per tutti e per ormai il tempo tra l'altro di informarsi è sempre meno perché le cose su cui informarsi sono sempre di più e quindi semplificare il linguaggio avere tra l'altro dovrebbe esserci anche un ministero un ministro per la semplificazione esiste giusto c'è ancora credo adesso sia innovazione non so se hanno rinnovato anche c'era stato uno della semplificazione ma adesso c'è un ministro del soldo posso dirvi anche chi era il ministro della semplificazione e che diciamo già il nome chiude l'argomento era Calderoli devo dire che non so se e cosa ha semplificato quindi non espliciamo esatto ho detto solo il nome era lui quindi ecco bisognerebbe affidarlo a qualcuno che effettivamente sappia come dicevi tu prima che abbia delle skill tutte particolari visto che è un mondo apparentemente semplice che in realtà appunto va è molto molto complesso quindi per entrare in contatto con SIAE in questo momento esiste anche siete anche presenti sui social vero? sì ma guarda la modalità di comunicazione le modalità di comunicazione in realtà sono più di una quello che io consiglio sempre è noi da almeno un anno e mezzo abbiamo messo a disposizione un form web un form web nel quale io posso fare tutte le domande che voglio e quello devo dire che è sicuramente il canale sul quale stiamo cercando di garantire un'affidabilità quindi una reliability maggiore un tempo di risposta migliore rispetto agli altri perché poi a Facebook sì ci fanno delle domande però non sono poi mai delle domande che vanno a fondo magari sono domande molto generiche per un associato sia sicuramente il modo migliore per fare una domanda è attraverso il form web tra l'altro oggi questo form è stato in realtà implementato all'interno dell'app quindi se io entro nell'app nella parte assistenza quell'informazione che io chiedo lì dentro per noi è direttamente disponibile nei sistemi e cerchiamo di rispondere nel più breve tempo possibile poi chiaramente alcuni associati fanno domande anche molto complicate che spaziano su argomenti anche non solo complessi ma anche molto disparati e quindi anche internamente bisogna diciamo cercare di costruire una risposta tra più soggetti diversi quello che posso dire è che mentre fino a tre anni fa non esisteva dentro sia la garanzia di una risposta oggi sicuramente per quanto magari se la domanda è complessa ci vuole un po' di tempo possono essere uno o due giorni però una risposta arriva quindi quello è il canale sicuramente migliore perché dall'altra parte noi abbiamo anche un centralino telefonico però come potete immaginare rispondere a domande che sono anche complicatissime è molto difficile quindi il rischio qual è io magari chiamo nell'orario di punta mi faccio anche dei minuti di attesa e poi mi dicono guardi in realtà questa cosa non le so rispondere esattamente a volte fanno domande che mettono in difficoltà anche me quindi potete immaginare che io sicuramente ne so su argomenti specifici molto più delle nostre persone che non possono essere onniscienti ma devono rispondere in qualche modo al telefono quindi vi direi che la modalità migliore comunque è o il form web o meglio ancora l'app perché tanto l'app ti toglie tutti i problemi di login perché sembra una banalità ma secondo me la semplificazione più grande che abbiamo portato con l'app è il fatto che non bisogna ricordarsi non utente e password io entro dentro faccio la domanda e la risposta mi arriva direttamente via mail con le informazioni che sto richiedendo quindi quella è la modalità migliore ti faccio un'ultima domanda qual è il settore sul quale state investendo di più nello specifico se c'è qualcosa veramente di ma da che punto di vista come investimenti cioè il sito o gli agenti c'è qualcosa su quale state effettivamente investendo in modo particolare ma allora in realtà stiamo cercando di investire non dico su tutto ma su tutto quello che può portare un valore comunque ai nostri associati quindi da una parte stiamo investendo ecco quello che dicevo prima sulla semplificazione nell'accesso e nell'interazione quindi parliamo di app parliamo di semplificazione del sito ma il sito a un certo punto potremmo anche decidere di spegnerla tutta la parte web perché uno dice l'app c'è tutto quello che serve niente di più niente di meno usate soltanto l'app da domani mattina iOS e Android più facilmente vorresti arrivare a quel punto devo dire che mi piacerebbe l'unica cosa probabilmente differenzieremo perché noi abbiamo anche nel momento in cui abbiamo fatto questi progetti di semplificazione bisogna anche guardare in faccia la realtà e ci sono soggetti completamente diversi che interagiscono con noi perché chiaramente un editore che interagisce con CIA è un soggetto professionista che probabilmente alcuni hanno degli impiegati che stanno otto ore al giorno davanti a un sistema che fornisce CIA chiaramente un'app sarebbe complicato quindi magari vorremmo differenziare e dire la parte web servirà per i professionisti del settore che possono essere ad esempio gli editori invece gli autori usano l'app perché effettivamente per loro prima di tutto non è core business loro fanno un altro mestiere vogliono una semplificazione ed è più comodo anche per gli editori questo perché gli editori molto spesso oggi inseguono gli artisti per dirgli mi firmi per favore il deposito mi fai questo mi fai quell'altro se noi diamo all'autore una cosa molto più semplice che attraverso l'app gli permette di fare quello che gli sta chiedendo l'editore semplifichiamo la vita in realtà tutti e due come altri investimenti poi in realtà c'è tutto quello che l'autore non vedrà mai e che succede dietro le quinte come potete immaginare CIA a gestire il mandato come dicevamo prima di un autore per un brano è banale arriva il maestro Agnimo Morricone mi dice io quest'opera voglio che me la gestisci ok gestisco un'opera vado a tentare di incassarla in giro il problema è nel momento in cui gestiamo 60 milioni di opere e dobbiamo interagire con 500 mila soggetti che vogliono utilizzare quelle opere soltanto sul territorio italiano questo diventa un problema molto più complicato per il quale servono dei sistemi che bisogna non solo evolvere ma in qualche modo anche trasformare perché in realtà oggi la tecnologia ci permette di fare non le cose che facevamo prima più velocemente ma ci permette di fare tante cose proprio in maniera diversa superando anche tanti vincoli che oggi noi abbiamo ad esempio per chi se lo ricorda il bordero cartaceo c'era cognome del compositore e titolo dell'opera questo che cosa comportava come problema noi nel regolamento questo per farvi un esempio che però rende l'idea nel regolamento generale di SIAE c'è una dicitura particolare che dice che due persone con lo stesso cognome non possono depositare una stessa un'opera con lo stesso titolo perché maestro Rossi Vasco Rossi ha depositato Alba Chiara trent'anni fa il problema qual è se arriva un altro signor Rossi che non si chiama Vasco ma si chiama Mario e vuole depositare una canzone che si chiama Alba Chiara perché non glielo facevamo fare prima perché nei bordero c'era scritto soltanto il cognome del compositore e il titolo dell'opera e quindi non sapevamo a chi dare i soldi tra lui e Vasco Rossi per questo motivo abbiamo dovuto fare quelle cose lì chiaramente che cosa succede cambiamo tutto cambiamo tutti i sistemi che ci sono dietro e che gli associati non vedranno mai c'è il bordero digitale nel momento in cui facciamo la transizione lo switch off spegniamo la carta e abbiamo soltanto digitale a quel punto potremmo far depositare anche a Mario Rossi la canzone Alba Chiara senza limitare in qualche modo la sua creatività perché potete immaginare che ci sono n persone che si sono lamentate dicendo bello ambizioso però depositare un Alba Chiara è bello ambizioso ma in realtà di Alba Chiara ne abbiamo credo a sistema lo potete cercare ma forse qualche centinaio basta non chiamarsi Rossi di cognome lo puoi depositare quindi quello non è mai stato un problema 59 al vecchiare non divasco Matteo ti faccio un'ultima domanda che musica ascolti tu di tuo? ma io allora diciamo che nonostante il mio lavoro sia occuparmi di musica non mi considero un grande esperto di musica e per questo non voglio fare figuracce barra fare qualcuno contento o scontento per quello che potrei dire perché come potete immaginare ne conosco tanti di associativi ma tutto personale può essere qualsiasi cosa non è che devi essere in realtà non ho un genere preferito ascolto può variare da rap ad esempio sono un amante di Ludovico Inaudi uno direbbe super commerciale non mi piace ascolto anche tanta musica classica ascolto un po' di pop di rap che ti piace ma allora di rap devo dire che come ti avevo detto non sono un grandissimo esperto non volevo fare figuracce specialmente in questo ambiente quindi da una parte c'erano delle cose che mi piacciono personalmente ma vorrei evitare di scadere diciamo nel banale e quindi mi sono fatto aiutare da una persona che conosci che si chiama Nicola che invece è una persona che secondo me è prima di tutto molto più esperta di me ma ci voleva poco ma che sicuramente ne sa qualcosa diciamo a me ci ho pensato bene guardando anche le mie playlist ho trovato anche qualcosa quindi questo già è positivo qualcosa del passato sicuramente gli articolo 31 ok gente che spera in particolare l'ho trovata nelle mie playlist quindi era qualcosa che mi piace poi i franchi i energy quelli che ben pensano e quindi diciamo qua già dici sì vabbè però trova super nota non per piageria ma perché forse ne avevamo anche parlato una volta diciamo anche qualche pezzo più tra virgolette recente devo dire più musicale poi non lo so sicuramente su queste cose non sono un grandissimo esperto c'era una di Fabri Fibra che si chiama Pamplona che tra l'altro diciamo anche per evitare che sembri piageria l'ho fatta mettere negli esempi quando abbiamo fatto l'app del bordiro digitale tu magari non ci hai fatto caso nemmeno un buon Fabri Fibra ma l'esempio di quando cercavano il brano era proprio Pamplona di Fabri Fibra e non era un caso perché in quel momento in particolare la stavo ascoltando stai andando benissimo stai andando benissimo no Nicola mi ha detto delle cose che ha detto vigli queste perché secondo me anche Paola capirà che così cani sciolti sangue misto ah beh e beh sì diciamo è proprio un blueprint del rap italiano è proprio una matrice Nicola è uno che ne sa ma non avevo dubbi e Luix la race ah sì beh ho detto street rap no 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 per quello Luix anche lui è un blueprint dello street rap italiano diciamo che grazie a tutti eh poi mi ha detto di citare anche il club dog e il cor veleno che lui in particolare come romano amava particolarmente certo primo sempre nel cuore Matteo grazie mille davvero del tuo tempo è stato molto utile credo che prima o poi dovremmo fare una parte due per approfondire determinate cose anche perché poi arriveranno dei commenti delle domande noi siamo qua per rispondere ti ringrazio tantissimo del tuo tempo di essere stato con noi ciao a tutti siamo prontissimi per la parte Q&A siamo prontissimi per le domande e dare risposte saremo prontissimi Matteo Fedeli Paola Zuccar TRX Radio grazie Giulio e regia alla prossima TRX Original per la parte Q&A Grazie.